Questa prima settimana, perché poi da giovedì scorso, la stiamo utilizzando per cercare di mettere in piedi quanto prima la squadra di governo. Individuare la giunta non è mai una cosa semplice, ci sono ovviamente tante aspettative. Sto cercando di tutto insieme alla mia squadra, di trovare una sintesi in maniera tale da trovare le persone giuste da mettere nel posto giusto. Sono convinto che entro qualche giorno potremo arrivare alla sintesi e quindi saremo pronti poi per convocare il Consiglio Comunale e quindi partire veramente con questo nuovo governo comunale. Dal punto di vista delle aspettative, sicuramente i cittadini hanno molta aspettativa, cercheremo di non deludere. Chiedo anche ai cittadini, anche se ho dovuto fare addirittura un post, di avere un po' di pazienza, nel senso che continuano i primi giorni, mi arrivavano tantissimi messaggi con indicazioni, suggerimenti, segnalazioni. Ovviamente la squadra oggi non è ancora pronta e quindi è difficile poter gestire centinaia e centinaia di richieste o comunque di suggerimenti e quindi chiedo appunto ai cittadini di aspettare qualche altro giorno, ma comunque al massimo qualche settimana e poi appena abbiamo fatto la squadra, appena partiamo con il Consiglio Comunale, saremo sicuramente in grado di voler dare quelle risposte che abbiamo promesso a tutti. Come è stato lo switch dal Consiglio regionale al Sindaco di Pesaro? Qual è il cambio più radicale che ha notato? Beh, innanzitutto ovviamente non posso nascondermi, il Comune è una realtà, un'amministrazione, un ente che conoscevo comunque già bene, ho già fatto l'assessore, ho comunque mantenuto in questi nove anni che ero in Consiglio regionale un legame molto forte con l'amministrazione comunale, l'ottimo rapporto che comunque avevo con il Sindaco Ricci, con tutti gli altri amministratori, gli assessori e quindi diciamo che in questi nove anni non mi sono mai allontanato dal Comune di Pesaro e quindi è come un ritorno a casa, sicuramente molto stimolante, mi fa molto piacere, eviterò di fare tre ore di viaggio tutti i giorni per poter raggiungere la sede lavorativa, in questo caso prendo la Vespa, prendo la bicicletta e in poco tempo riesco comunque ad essere operativo in Comune. Fantastichiamo un po', se avesse la bacchetta magica Andrea Biancani cosa farebbe? Anche qualcosa di impossibile? Io ho già detto che a me piacerebbe molto riuscire a dare una risposta sia per quanto riguarda il Viale Trieste sia per quanto riguarda il porto, se avessi la bacchetta magica farei arrivare la Draga per riuscire a rendere il porto un vero porto utilizzabile, un porto a servizio dei tanti cittadini, dei tutti i diportisti, ma soprattutto dei turisti che vogliono raggiungere la città con la propria barca, perché anche questo è un settore che non possiamo sottovalutare. Dall'altra parte avere i soldi, il progetto pronto di Viale Trieste, perché penso che abbinati ai tutti i grandi lavori che stiamo portando avanti per il centro storico e non solo, anche in tutti i quartieri, riusciremo veramente a trasformare Pesaro facendola diventare sempre più bella. Aveva parlato del primo lavoro da fare, sull'aspetto culturale, museale, come sta andando? Beh, devo dire che sta andando bene, già siamo riusciti ad aprire i musei con un progetto che si chiama Scacchiera, vuol dire che comunque un museo aperto tutti i giorni durante l'oraria di pranzo c'è già, è partito pochi giorni dopo che mi sono insediato, ne avevo parlato con l'assessore Vimini, siamo subito riusciti a rendere aperto il museo durante l'oraria di pranzo almeno uno spazio museale. Ora il nostro prossimo obiettivo è quello di riuscire ad aprire anche ulteriori spazi della cultura, non è scontato che ce la faremo, ma sto pensando ovviamente alla Domu, sto pensando al Teatro Rossini, sto pensando alla Sinagoga, quindi a tutta un'altra serie di altri luoghi della cultura che dal mio punto di vista meriterebbero di essere aperti, di essere visitabili. Un'ultima domanda, c'è un messaggio che Andrea Biancani da sindaco vuole mandare ai cittadini pesaresi? Il messaggio che voglio mandare, ma già si sono accorti, il mio carattere non cambierà, sono una persona solare, una persona che ha piacere di parlare con tutti, con tutti i cittadini, e quindi quel messaggio che voglio dirgli è che comunque il sindaco c'è, il sindaco è vicino, l'esigenza di tutti i cittadini, ovviamente non arriveremo, non riuscirò ad incontrare sempre tutti, perché ovviamente ognuno di noi ha dei limiti, però i cittadini devono sapere che hanno un sindaco presente, un sindaco che ama la propria città e che farà di tutto per renderla sempre più, come dicevo, bella, inclusiva, accogliente, una città dove i pesaresi non solo devono avere il piacere di poter vivere.